Scusa, scusami se sono venuto, scusa. Per colpa tua, corriamo il rischio di perdere l'aereo. Ma non si preoccupi, sono qui. Non ti manda. Che fa? La fila? Ma no, la faccio passare avanti, c'è il signore in carrozzella. Ma assolutissimamente no. Noi italiani ci dobbiamo sempre far riconoscere. C'è la fila? Si fa la fila. Sì, ma io dicevo perché magari il suo cognato è in carrozzella. Grazie, signore. Mio cognato sta benissimo, non voglio approfittare di uno stupido malore per passare avanti agli altri passeggeri che sono qui da prima di noi. Bravo, fossero tutti come lei. Coscienza civile, semplice coscienza civile e un po' di educazione. Ma mi permetta di insistere, per i passeggeri in carrozzella... Ma è muovere il cazzo, figlia bella, è falsa per sta fila. È la carrozzella, questa carrozzella, si ha fatto due balle. Come è? Se insiste, andiamo. Scusi, ma la coscienza civile dove la mettiamo? Che te lo devo dire? Che te lo devo dire?